Su! In piedi! Ho detto in piedi! Siamo nei guai ragazzi eh? Oddio! Vabbè Vogliono ucciderci ragazzi Ragazzi benvenuti nel ventunesimo episodio Ho aspettato insomma che finisse il filmato prima di salutarvi Lasciate subito un bellissimo like per supportare questa serie E vi ringrazio per chiunque guarda i video e lascia like Grazie ragazzi Cos'è? Una tomba con le ruote questa? Siamo nei guai Nell'ultimo episodio ci siamo ascoltanti con Charles Lee che ci ha riconosciuto dopo anni E ci ha messo nei casini Ai 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 Ma ci sta liberando? Ah no forse è un forte Ah non invece si? Ciao Connor Non pensavi che mi sarei perso la festa d'addio vero? Eh Ha sentito che verrà anche Washington in persona Dove cazzo è Achille? Non gli accada nulla Avevi parlato di un processo Eh non si processano i traditori Tutto merito di Lee ed Eytan Te ne vai dritto sulla forca Eytan Bastardo Nostro padre Non posso dire lo stesso di te Ora basta Muoviti Ah bellissimo questa missione ragazzi Bastardi Pezzo di merda Zete Pagliacci Zete Che non ho fatto nulla Ho sentito una lama ma non l'ho visto Questo è Achille Non mi ricordo se Achille o se è un altro Eccolo lì sopra Non mi ricordo chi sia però Ovviamente mi sa che Questa parte vi abbassarò un pochino il volume della folla Perché se no Dovrei mettermi ad urlare Ma diciamo che non è proprio il caso Oh la madonna La tipa con il pugno più forte d'America Che cazzotto Grida pure Lascia perdere Devi formare Enchi Lui Muoviti Non vorrai tardare Giusto? Dovevi proprio a fare l'errore Vero? Tu e pure Giorgio Ora vedrai che si ottiene Una cassa di pino E basta Fratelli Sorelle Amici patrioti Alcuni giorni fa Ho scoperto un piano così file Così Perverso E al solo parlarne Ancora provo dolore Che falso Buuuu Bello là dietro Malvagità o follia Lo pervada Non so dirlo E nemmeno ha provato A difendersi Non prova rimorso E sebbene lo abbia Implorato E pregato Di rivelarci ciò che sa È rimasto In totale silenzio Se lui stesso Non vuole parlare Che brutta sensazione Se non Confessa Né si pente Cosa dobbiamo pensare Se non questo Voleva farci cadere Nelle mani Del nemico E quindi Siamo costretti Dalla giustizia A condannarlo A morte Cosa Dio Avere pietà Di te No no ragazzi Aiuto Oh Sono vivo Devo formare Iki Bravo Achille Assurdo come Non dico che sia reale Questa cosa Però mica Mi ha messo Un po' L'ansietta Perché corre così piano Vai corri Connor Stuck Tutto a rallenti Bello Washington ti ho salvato Ricordati di me Accidenti Credevo di vivere ancora a lungo Peccato Voglio risposte Perché Johnson vuole la terra del mio popolo Perché Pitcair mirava ad Adams e ad Hancock L'uccisione di Washington A che doveva servire Perché il vostro ordine aiuta gli inglesi Io che ne so I Templari Lì Lì Il pezzo grosso Adem Hanno i soldi Hanno il potere Ecco perché stavo con loro Solo per questo Ci sta Di sicuro Ti sei alleato con persone che ci priverebbero della nostra umanità Soltanto perché ti pagavano bene Cos'altro conta Non sono così ingenuo da seguire dei principi E che cos'è un principio? Ci si compra qualcosa? Connor non ha tutti i torti Non andarmi così Siamo diversi io e te Sei solo Un imbecille A caccia di farfalle A me importa Soltanto avere una birra in una mano E una tetta nell'altra Onesto Beh un bel discorso comunque Alla fine Abbassate le armi Vi ho detto di abbassare le armi Sì Quest'uomo è un eroe Grazie dove cazzo eri fino adesso tu? Il generale sa essere davvero testardo Valle ha detto quando lo abbiamo avvertito del pericolo che correva Valle Basta Voleva uccidere il comandante E ha quasi ucciso voi Era un furfante Ma era un uomo Furfante Senza onore non si è niente Dov'è Washington? Devo parlarvi Se ne è andato subito dopo la vostra supposta esecuzione Sarà sulla strada per Philadelphia ormai Lo raggiungerò Ma non è vero Era lì quando ho ucciso il tipo Era lì davanti a me Iki non agiva da solo Dove sono i miei vestiti? Le mie lame? Comunque stavo dicendo Che il discorso del Del tipo che abbiamo ucciso Non è così sbagliato Allora nella vita servono Sempre dei principi Ma non mi lasciano parlare Sarebbe un complimento Ora non esagerare Sono convinto che tutto finirà in tragedia Ma sei arrivato fin qui E beh, hai superato le mie aspettative La gente anela la libertà Ma ha paura di prendersela La paura è svanita ora Grazie a te? No È tutto merito loro Ti stai sminuendo Ma hai sempre avuto un cuore Faccio quel che è giusto Né più né meno Non puoi dirglielo Devo farlo Altrimenti Non sarà mai al sicuro È meglio che non sappia Instillandogli il seme del dubbio Rischi di vanificare Ogni suo sforzo Se Washington si fermasse Charles Lee colpirebbe Causeresti proprio Ciò che vuoi impedire Stana i Templari È il tuo dovere Ma non coinvolgere questi uomini Ok Achille Sì, era comunque Un discorso da persona A cui non fregava un cazzo Dei Templari O degli Assassini Voleva i soldi per bere E scopare Altrimenti finiremo Sulla forca Uno per uno Ciao Franklin Anche stavolta Ci hai salvato amico Devo parlare con il comandante È dovuto andare a New York Gli inglesi vogliono prenderla Temo che dovremo richiamare Anche le nostre truppe Dal Quebec Un conto È proclamare l'indipendenza Eh sì Ma noi amico mio Dobbiamo cercare di difenderla Sequenza 8 Terminata Quella era La costituzione Per chi non sapesse Cosa stessero firmando Va tutto bene Sean ha trovato La seconda fonte D'energia Ho chiesto a Rebecca Di trovarci un volo Per dove Brasile 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 Ma siamo ricercati What Io sono qua Per salvare il mondo Da un'esplosione Solare Dall'esplosione Della terra Questi qua Mi mettono la foto Da ricercato What the fuck Siamo nella metro Ma perché mi spingono Comunque finalmente Viviamo un pochino Anche di Di vita Vera Tra virgolette Perché ragazzi Diciamo che Pronto Ok non è mio Diciamo che La vita di Desmond La parte reale Di questo gioco È comunque Importante Quanto Quanto i suoi antenati In realtà Non è mai stata Così tanto Seguita Al meglio La storia Tra virgolette Reale Peccato perché Era da approfondire Un pochino meglio Anche su altri giochi Ragazzi Dai Ora mi senti Forte chiaro Qual è il piano In base alle nostre informazioni La fonte di energia Si trova nel bracciale Della bella Della bella moglie Di un riccone Stiamo cercando Di localizzarla Ma è probabilmente Che sia nell'area VIP A livello superiore Dello stadio Ti aggiorno Al più presto Mi servirà un biglietto Isi lo rubiamo subito Oh madonna Siete proprio Dei cagacazzi Via Via Madonna Voi Biglietti Biglietti Non sembrano Perché sono ricercato Ok Cross vi ricordo Che era un ex assassino Alleato con i templari Pezzo di merda Lui non può fischiare Vabbè Desmond Uno degli assassini Più forti della storia Non può fischiare Quando è dentro Ai cespugli Vabbè Quello Se mi sposto Mi ciocca Ah no Fanno il cambio Fanno Che schifo Corro Non mi vede Corro più veloce Via Con calma Con calma Ragazzi Con calma Bene Laggiù c'è un posto di blocco Guardi in avvicinamento Perché stanno chiamando la sicurezza Bastardi Ok Siamo in bagno Uè Easy Ma Che pisciata qua Ma Che ci fanno tanti urinatori In uno stadio È disgustoso Mi chiedo chi li avrà progettati Direi che fanno risparmiare tempo Oddio Sembrava crato Non c'è neanche un gesto E se mi viene la diarrea Eh sì Però magari in quel caso Spegni il microfono Stava sbrattando Ah no Sta pulendo Ok Pensavo sbrattasse Poco tempo Era veneto quello No brasiliano Ok Cioè Ci sono delle guardie Lì davanti Ok 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 Sì Tocane Vai Bravo Desmond Fenomeno Fortissimo Ma rampicarci da fuori Come un vero assassino Al posto di entrare così E farmi impazzire E farmi impazzire No vero Improponibile Ma cosa vedete voi Cosa cazzo vedete che è tutto bianco Vabbè Ok ci siamo quasi Ok ci siamo quasi Ci ti conviene spostarti Ma che sei un cane Sei Eh Ah devo passare così In mezzo a tutti Scusate Scusate Ah ma si stanno picchiando qua A mani nude Proprio Quello che ha giusto i fili Non preoccupatevi Sono l'elettricista Tranquilli Tranquilli Madonna Guarda qua Le bozze Che partono Sì Ma perché No Occhio Eh niente Ci lancia la pistola Guarda che lui È cross Quello Ma cosa Wey Il fenomeno Levatevi Ho fatto un casino Ho fallito Maurizio Merluzzo Dai 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 Cos'è sta stronzata Dai Via via Che si picchiano tutti Menare le mani E vattene Ammazzato È ucciso anche questo E questo come fa a muoversi Ancora presamente morto L'ho girato il collo Come un Gallo Oh è svenuto Zitto E picchio anche te A sangue Bene Ma posso picchiarli Ciao ragazzi Aia Niente Vi picchio Senti le ossa Come si rompono Senti le ossa come si rompono Sono un po' li ammazzati Pronto Niente Desmond è incontrollabile Quando corre Ok Beh che dire Che dire Abbiamo quasi rischiato la vita Anzi quasi L'abbiamo rischiata Per una batteria Merdosa Puoi tornare da Connor Quando sei pronto Desmond O preferisci prima Inserire la fonte di energia Come vuoi No no Mettiamo la fonte E chiudiamo L'episodio Se siete d'accordo Ragazzi Sempre se la trovo Perché se non la trovo È un problema Me lo direte voi Nei commenti Magari di qua Cos'è un fatto È fisso Cos'è un fatto Vai alla stazione Tieti che ne vedi Esistono spesso In attesa di scoperta O si può forse mutare Qui scoprimmo la risposta E credemmo Furono usati per comandare Contro i mani Ince Ma presto scoprimmo Un altro uso Quando a molti schiavi Era ordinato di credere I pensieri Prendevano forma L'immaginazione Diventata Cento menti riunite Potevano abbattere muri O creare alberi E migliaia assieme E diecimila E di più Potevamo Unirci tutti i fatti E annullare la minaccia Decidemmo di mandarne uno in cielo Per illuminarci tutti Solo allora avrebbe Pronunciato un'unica frase Devi salvarci Devi salvarci In questo modo avremmo cambiato l'accordo Avremmo salvato il mondo Ma ciò non accadde Ne lanciammo decine nel cielo Ma non si potevano più controllare Ne potevamo dirigerne il flusso O osservire il mondo Ne dire la frase Per quanto fosse assurdo E rischiuso Poi provammo ancora di più Si comunque in pratica Tutti i casini della terra Del nostro mondo Per colpa loro Cioè Loro e la loro ambizione di merda Io vi salvo Perché Sono un gentleman Ma voi siete dei coglioni Fatevelo dire La prima idea Fu tornare indietro Cambiare il passato Ma non sapevamo farlo E in avanti Potevamo guardare avanti E così provammo a guardare Oltre noi stessi Per conoscere il futuro Prima cercando di scoprire Se ci saremmo salvati Ma la risposta Era sempre la stessa Così provammo altre strade Ma lei insisteva Volei che tutti anni mi nervi Col tempo anche lei Smise di cercare Cominciò A parlare Ezzio Ciao Ezzio Sperando Che tu ti salvassi Nascondeva messaggi In luoghi nascosti Solo per te E per chi è qui dentro Affascinante Sono stufo I messaggi criptici Le minacce Diteci che cosa volete Ma lo fanno Vi abbiamo visto i giganti Di fronte ai quali ci sembrava di essere come l'obuste Così dovevamo sembrare a loro Immagina di spiegare tutto questo a un bambino piccolo A una cavalletta Quando dicevano che il volere degli dèi è inconoscibile Avevano ragione Davvero L'ho uccisa sai Ho ucciso Lucy Merda è vero E' stata la mela E' stata giù Ho visto chi era Troia Cosa avrebbe fatto se fosse vissuta Potevo fermarmi Cioè C'era una forza laggiù Ma non era obbligato Io ho scelto Desmond Lucy aveva intenzione di tradirci e riportare la mela all'abstergo Ho visto il lancio del satellite Li ho visti accenderlo e poi Fallire Non me la ricordavo questa cosa Qualunque cosa ci sia oltre quella porta Avvantaggia giù Dobbiamo stare attenti Questa cosa non me la ricordavo perché Se avete giocato Se avete visto la mia serie O dei video in generale su Broderud Sapete che alla fine di Broderud Desmond Impossessato della mela Anzi posseduto dalla mela Cioè da giunone Uccide quella che era la sua fidanzata Tra virgolette Però non mi ricordavo questa cosa Che Lucy voleva avere intenzione di tradire Poi per carità Magari può essere anche la mela Che ha fatto Che ha fatto vedere a Desmond Cose non vere Molto probabile Non credo comunque Ci ha aiutato a scappare dall'abstergo Tutto Il casino che abbiamo fatto Per essere sicuri E scappare Non credo Che poi ci avessi Non lo so Giurone Mi dici dove andare Per favore No no dai È giusto È giusto È giusto È giusto Correrà oggi il tempio Ok ragazzi Allora abbiamo messo L'altra batteria di energia Per andare avanti Con le nostre ricerche Per riuscire a sbloccare Quella maledetta porta Che vedete là in fondo Ok Forse ce lo dice ora Ti dico che c'è qualcosa Quaggiù Ma piantala Non lo so Magari stavano dormendo tranquilli E li abbiamo svegliati Forse Erano in criogenia O Ibernati Cioè Come facciamo a sapere Che cosa ci facevano qui Stavano lavorando A molte soluzioni diverse Ma inutilmente Passavano da una all'altra E poi Non lo so Credo che abbiano rinunciato Dopo la fine Chissà come sarebbe Il mondo Se ci fossero riusciti Guarda Mi preoccupa di più Come sarà Se falliremo noi Salvezza Trovarono un modo Troppo tardi Per loro Ma non per voi Nascosto Per proteggerlo Ma ora Ti sbarra la strada Trova la chiave Il passato Vabbè Ragazzi Vi saluto Vi mando un abbraccione gigantesco Per favore Lasciate un like Se il video vi è piaciuto Vi chiedo anche scusa Perché immagino Che questi ultimi due video Siano stati un pochino lunghi Perché Ho più o meno 40 45 minuti di registrazione Per ogni video Quindi Sarà Una venticinquina di minuti Forse mezz'ora Anche di video Quindi In caso potete guardarvelo Anche più volte Senza problemi Comunque lasciate sempre un like Un commento Che è molto importante Ed è gratuito Iscriviti al canale Se ancora non l'hai fatto Perché è molto importante Anche quello E Attiva la campanella Perché youtube Spesso volentieri Non manda le fide Gli iscritti Quindi se Attivi la campanella La notifica Ti arriva Per forza di cose Quindi sai Ogni volta che inizio una live Perché si Siamo anche in live Sempre qui su youtube E ti aspetto Buon pomeriggio Buona serata Buono tutto Bella Buon pomeriggio